Simone Capotosti il capitano di questa di questa ternana due a due avete sprecato troppo in chiave realizzativa sì qualche errore di troppo e purtroppo a questo gioco si pagano e non riuscivo a portare a casa questa vittoria in casa purtroppo anche se abbiamo del tifo meraviglioso volevamo regalare una grande vittoria purtroppo loro con il portiere di movimento ci hanno pareggiato solitamente con la squadra avversaria o il portiere di movimento ve la cavate direi abbastanza bene questa sera non è andata così qualche palla purtroppo passa è passata male una sul primo e una in mezzo a due giocatori sul secondo e purtroppo queste palle a volte passano senti però che giudizio dai sulla prestazione della squadra perché poi anche real terracina voglio dire non è una squadra a dieci punti in classifica al secondo posto è vero che ha due partite in più rispetto alla alla generali ternana futsal sì loro una buona squadra anzi buonissima stanno secondo in classifica la classifica parla chiaro a noi ci manca qualche punto però loro sono una grande squadra e venire qui e segnare solo sul portiere di movimento c'è una lettura importante significa la squadra è stata corta è stata stretta è stata unita e poche occasioni per loro è solo questo ecco maledetto portiere di movimento che alla fine è un'arma a doppio taglio però loro l'hanno sfruttata bene rammarico quindi per non aver portato a casa l'intera posta in palio sì tanto purtroppo perché le occasioni le abbiamo avute per chiudere la gara anche prima e anche durante il portiere di movimento con cesar però purtroppo non siamo riusciti a chiudere loro si sono venuti sopra vediamo le assenze anche di paolucci di de michelis si sono sentite beh sono due giocatori fondamentali per questa squadra paolucci lo sappiamo tutti e de michelis è un finalizzatore purtroppo oggi erano indisponibili uno per squalifica uno per infortunio e abbiamo pagato anche questo senti comunque ti sta togliendo anche quest'anno diverse soddisfazioni passano gli anni voglio dire ma sempre il solito gladiatore con qualche pausa in più no perché qualche volta in panchina cosa che magari negli anni passati però gli anni passano anche per simone capodosti si abbiamo cambiato anche metodo di giocare quest'anno è un po più dispendioso quindi mi prendo anche qualche minuto di riposo giustamente abbiamo una rosa diciamo buona e ampia quindi è giusto così che giriamo e andiamo sempre al massimo ma sei preoccupato sulla sulla situazione di classifica preoccupato no però ecco come dicevo prima ci mancano qualche punto specialmente in casa con tre pareggi che potevamo alla fine portare a casa almeno due vittorie e quattro punti fanno una buona differenza purtroppo questo campionato è molto livellato le squadre sono tutte ottime squadre con fisicità e tatticità quindi dobbiamo lottare su ogni palla e poi magari passa quella palla e finisce due a due grazie in bocca al lupo crepi e e e e e e e